Salve a tutti quanti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio degli Hunger Games, il diciottesimo episodio, qui sono in compagnia di Samu258. Ok, la guerra di brutto, tu se vuoi puoi parlare. Sì sì. Ok, non ho trovato niente. Allora, andiamo dove c'è il vetro, quello gigante. Ci troviamo lì. Cazzo, mi lagga come le merda. Non ti trovo, eccoci. Dove sei? Dietro di te. Ok, dove andiamo? Vai seguimi. Ok. Oh cazzo, ho preso anche il barbarian. E allora è uguale. Cazzo, ho sbagliato. A proposito, qui non puoi andare troppo distante dalla mappa. C'è una cosa che si chiama boomer, boomer, non so che cazzo è che ci fa uccidere. Sì, intanto uccidiamo questo tipo. Così, tranquilli. Eh, ma infatti, ma se tu vai troppo distante, ti dice, non so. Credo che sia, ogni tot di kill non ti fa ammazzare questa cosa boomer, non so che cosa. Che hanno aggiunto questi, non so che cazzo è. Se lo puoi leggere in inglese. Ma ci sono del cesto laggiù tanto, quindi. Eh, ci sta già andando quello però. Io vado ad ammazzare quello. Cazzo, se riesco a correre magari. Dovresti leggere tesivo? Questo è spagnolo. Dov'è? È qui. È morto. Ucciso, bene. Attento, c'è un arciere. Arciere a destra. Arciere a sinistra, voglio dire. Vedi, c'è questa cosa, you are coming. C'ho zero di vita, mi dovresti togliere questo arciere. E se ci riesco? Cazzo. Merda, mi ha ucciso. Ok, il mio amico se n'è andato, quindi, vabbè. Vi metterò il canale in descrizione del suo canale. Spero che andrete a vedere il suo canale. Poi se no mi incazza come una iena. Non è che aspettiamo che inizi questo cazzo di Undergames. Che palle. Allora, tanto, se vado giù, se vado giù in una grotta, non trovo mai un cazzo. Quindi è inutile andare a infiltrarci nelle grotte. Non c'è mai niente in queste grotte. So che non vedrete niente. Lui mi ha messo il canale in descrizione, intanto. Se sentirete Skype, lo so, benissimo. Spam. Vediamo il kit. E mentre che aspettiamo... Direttamente blocco il video qua e ci vediamo quando inizia l'Unger Games. Bella. Ok, esco ragazzi. Sta iniziando l'Unger Games. Qui c'è Ace. Ace di One Piece. Olè. Pensa qualcosa. Olè, olè, olè. Andita... Ehhhh. Eisssau. Luffy-43. ok Grazie. 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 Concentrato con l'obiettivo, eh. Usatemi. Questa andiamo a ammazzare qualche stronzetto. Ok. Con calma, però, eh. Che poi dopo mi intrippo. Ok. Ok. Bene. Le frecce mettiamole qua, che tanto vedo benissimo. Quello che mi sta succedendo. Ecco, ne vedo uno. Bastardo! Lo vediamo lì, adesso lo facendo. Cazzo. Oh, ucciso. Perfetto. Cazzo. Devo andarmene da qua io. Sennò sono fottuto. Cosa cosa aveva? Un corpicino, ma non ce l'ho. Ok. Frecce. Ne ho solo 16. Strano. Ne aveva anche lui. Mi stai prendendo per il culo? You motherfuckin'. Bah. Ho capito. You are coming closer. Ho capito. Basta che non mi scassi le palle. Ok. Andiamo a ammazzare questo qui. Siamo rimasti in pochi, eh. Ecco. Come al solito, sempre come mandarsi a fanculo in una grotta. Bene. Ok. Calmi. Calmi. Calmi, calmi, calmi. Che lo vedo. Lo vedo lo stronzetto. Eccolo lì. Sì. Fotti, ti stronzo. Sì, sì. Ah, vuoi fare lo schifoso? Bene. Vaffanculo. Vaffanculo. Schifoso. Scusa, dottor Comici. Ma è uno schifoso. Ok. Ci vediamo tra un po'. Ok, ragazzi. L'ho fatto amicizia con uno spagnolo. Gli ho parlato in spagnolo. Quindi. Non so come ho fatto. Ma. Ok. Andiamocene qua. Che bello. Fare amicizia con uno spagnolo. Ok. 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 L'abbiamo già perso. Cioè, neanche iniziato. Olè. Non l'ho visto. Ok. Cassa. Ok. potrei morire da un momento all'altro c'è solo camminassi ho perso il mio amico così tanto spagnolo e poi l'ho perso c'è proprio allora ok non credo che mi possa riaggiungere ma oh cazzo l'ho perso c'è un'altra cassa ok eeeh finita finita la magia se infatti non si può salire qua forse qui scusate il cane se lo sentite ok no prima di buttarsi giù da un edificio alto 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 mi sto sputtanando le frecce non ho un'altra soluzione non ho un'altra soluzione plausibile per descrivere questa cosa sto sputtanando le frecce no 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 come mi faccio inculare a sangue del me su oh pezzo di carne da dove è sbuccata fuori non lo so ma è pezzo di carne sarà morto quello lì di prima quello che mi stava inseguendo ok andiamo giù quanti siamo in pochi dio maledetto a me che mi inolto in questi castelli del cazzo che non serve a un cazzo perché non posso usarlo ok sicuro a vero come non detto come sprecare delle frecce inutilmente ma tanto ok saltiamo qui no cazzo 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 io mi sono innamorato di te bene 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 ma infatti in culo l'hai messa anche a me ma è un bel modo di cantare canzoni del genere vabbè tu mi hai ferito nell'orgoglio ma mi hai fatto venire voglia di mangiarmi un blocco che non so che cazzo sto cantando ma lasciamo il pezzo so solamente che voglio fottere questo che c'è qui si sa che in questo edificio ma non so dove prima o poi ti becco e quando ti beccherò ti killerò oh una cazzo una mela cibo che non serve a un fottuto cazzo cazzo porca zozza io che mi inoltro in questi posti non mi uscirò vivo sono sicuro ma è un gioco oh non so questo oh almeno qualcosa di buono c'è qua non è un fuoco dove cazzo ti sei cacciato brutto stronzo di merda non è un fuoco ma è qui vicino che cazzo dove non riesco a concepire dove cazzo si è infilato questo stronzo di merda allora siccome io sono più furbo di te e non sono stupido quanto te e io sono molto più furbo di te ma non ti dico il perché io ti aspetto qui brutto stronzo di merda vieni qui a farti fuori ecco lo vedo lo vedo è sotto terra quindi se sei sotto terra un'unica spiegazione valida è che sei qui sotto ma sotto dove? oh cassa oh brucia questa cosa eh scusa sono zetto guarda che vengo giù e ti faccio fuori in ogni caso cioè non ha senso quello che stai facendo va bene mi vuoi far sparcellare i coglioni bene ok ma perché ho sprecato un pezzo di legno? comunque se me ne faccio 4 c'era solo una cassa bello ma si ma andiamo a farlo fuori dai si però ti voglio fare una sorpresa vieni qui vieni qui brutto stronzo di merda ah bravo scappi si si proprio così scappi come un vigliacco come una caccola ah io ti ammazzo con l'arco non è che ci vuole molta scienza tommi vai affanculo non è che ci metto molto non ci ho ragionato molto che sei un cozzone oh cazzo ops scusa scusa ti ho preso di nuovo stupido dai vieni qui ah io e non scappare comunque odardo mamma mia che fastidio dai vieni dai vieni eh si con quei giochetti tirai il cazzo non fai paura a nessuno si si cazzo oh cazzone è morto come un cazzo cazzo ole sei un vigliaccone si si eh ciao cozzone dai fatti sotto vigliacco eh eh scusa dai fatti sotto cazzo si si eh si me ne vado ah ah coglione muovirei prima o poi dai fatti sotto dai si bravo cozzone io sono qui ole si si dai dammi freccia ancora dai su eh bravo sei stato un genio dai si 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 ciao ok grazie si 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 continua a colpirmi continua ok 5 blocchi ci basteranno vaffanculo stronzo dai dai fatti sotto fatti sotto vaffanculo vabbè ragazzi per questo video è tutto meno male questo è durato un po' di più questo qua è vabbè è uno stronzo vabbè lasciamo perdere quindi per questo video è tutto saluto da Bayon Community ciao a tutti ciao a tutti